Era ricoverata all'ospedale San Donato di Arezzo perché conteggiata da Covid-19, ma i medici hanno scoperto che aveva anche due tumori. La donna è stata così operata di urgenza e dopo un intervento di sei ore adesso è salva. La paziente, una 74enne, era ricoverata in malattie infettive, ma i medici si sono subito accorti dei disturbi che nulla potevano avere a che fare con il Covid. I successivi accertamenti hanno poi consentito di rilevare un importante tumore addominale che determinava una compressione sull'intestino, da qui la decisione inevitabile operare. Abbiamo concordato il momento preciso per farlo perché essendo una paziente Covid operarla troppo presto poteva compromettere il suo stato della malattia di base e poi lunedì l'abbiamo operata sei ore di intervento, tutti bardati perché essendo affetta da coronavirus necessitava questo tipo di accortezze. Alla fine abbiamo risolto il problema, era portatrice di due tumori, uno quello che era stato visto all'attacca e un altro che invece non era stato individuato e che era quello tra l'altro che le dava più fastidio perché aveva intaccato anche il fegato, la collecisti e parte dello stomaco. Un intervento difficile in tempi normali ma che il Covid ha reso estremamente complicato. I chirurghi hanno infatti lavorato con indosso tre paia di guanti, due paia di mascherine, occhiali e camice. Il rischio contagio è quello che ci preoccupava di più per la nostra salute come operatori e anche per la salute della paziente perché un paziente con malattia da Covid tende a sanguinare di più, ci possono essere delle complicanze polmonari, quindi la preoccupazione era per noi e per lei. La paziente ha superato bene l'intervento e adesso è nella rianimazione Covid. Nei prossimi giorni tornerà in malattie infettive dove sarà seguita da un'equip di chirurghi e infettivologi. La signora era ignaria di avere due tumori. Quando è venuta in ospedale per il Covid, il giorno prima lavorava a casa sua, mandava avanti una famiglia di sette persone, cucinava, quindi in ottima salute. Il Covid l'ha portata in ospedale e da lì si è evidenziato questo altro problema. Diciamo che il Covid nel suo caso gli ha salvato la vita. Diciamo che il Covid l'ha portata in ospedale e del Covid l'ha portata in ospedale.